Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo con Cristian. Ciao ragazzi, ciao Luca. Ciao Cristian. Dunque, i miei amici considerano Play Lover un qualcosa da sfigati, però loro sono sempre a lamentarsi delle donne. Perché succede questo? Tipico dei amici del bar. Cioè, nessuno ha bisogno di Play Lover, no? Cioè, se tu vai nelle case di tutti gli italiani, sono il caponello, dico, ma tu per caso hai problemi con ragazze? No, 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 ma io ne ho, sono pieno, esco tutte le serie con l'anno diversa, non ho bisogno di queste cose, no? E mi ricordo che questa cosa era veramente molto molto presente quando ancora all'inizio, mi ricordo, avevamo questi contatti forniti, diciamo, dall'esizia di marketing e tra le prime campagne nel 2016. Raga, c'era un livello imbarazzante che tu chiamavi, no, ma io non ho messo il numero, l'ha messo mia sorella, l'ha messo mia cugina, l'ha messo il mio amico, era uno scherzo, non lo sono stato io, tutto così. Cioè, era tutto così. Ha cresciato Facebook, ho schiacciato una menzogna dietro l'altra e mi faceva capire quanto schifo fa la gente, innanzitutto. E quindi ecco, le persone non vogliono ammettere che hanno difficoltà in questo ambito, perché l'ambito delle donne deve essere un ambito su cui bisogna essere bravi, per forza. Non è così, perché poi la gente fa ridere e noi ne abbiamo la prova totale, però ti dico, loro sono così. Cioè, no, 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 io non posso ammettere che ho dei problemi con le ragazze, perché sennò tutti gli altri sono perfetti, non sono perfetti tutti gli altri. Il livello in Italia è basso, ragazzi, è bassissimo. E lo stiamo dicendo noi per la prima volta. Cioè, Casanova, Vitelloni, Rivera Romagnola, tutta quella roba là non esiste. L'uomo italiano fa pena, ok? Quindi nel momento in cui impariamo ad accettare questa verità, e come ti ho detto, il livello è in continuo declino. Cioè, i studenti migliori erano quelli dell'inizio, adesso sono di un livello sempre più basso. Cosa significa? Che man mano che l'azienda si espande, prende, intercetta più persone, più clienti, che sono di livello più basso. Quindi significa che le altre persone non sono brave, sono ancora peggio, ok? E io, anche i trainer dicono, ma Cristian, siamo preoccupati per il livello. Io dico, ragazzi, ma guardate che diminuirà ancora di più. Il livello diminuirà costantemente. E loro sono preoccupati, dicono, peggio di così che cosa troviamo? Raga, purtroppo so che ci sono dei casi difficili, ma ci stiamo espandendo e purtroppo il livello della gente è questo, ok? Che devo fare? Significa che Casanova non esiste in Italia. Un saluto. Grazie.